Ciao ragazzi, ciao, benvenuti in questo nuovissimo video, qualche risetto e oggi siamo su minecraft Direte strano? Esatto Ehm... Oggi siamo in un dropper, abbastanza strano come cosa, ma non so, non so come funzionano i dropper, i bambini Io direi di iniziare, oddio mio, oh no 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 ragazzi ma c'ho tipo i problemi, ah, i problemi Oltre quelli normali, oh mio dio, oh mio dio Sono un fumato del Ma se tipo tolgo gli effetti Grafica Non mi dire che l'ho truffati Non l'ho truffati Mi sa che loro mi hanno truffato Oh shit, oh shit Sembro un fumato Ok Come faccio io con la malattia? Slash Malattia Levala Non va amici Pian piano Chi va piano va piano e salva Facciamo Ragazzi voi non avete visto niente Ok ragazzi siamo arrivati Non sapete come? E nemmeno io Ok andiamo al prossimo No per favore Basta Ah Ai lati devo andare Forse questo è già un pochino più possibile Ma se vado nel bordicino Tipo Sarò con te Tu non devi Ma ragazzi ma sono un pro Soltano l'ho citato Fammi schiacciare quel bottone Ok Sito del 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 Lo vedo Ma se io non facessi questi problemi Google Google Come si Per favore un attimo Chiere gli effetti da minecraft Come lo hai da money su true false Con un comando Vediamo dove fare Vendo i lati denti in giocatore si Effect Bambini scemi Quanto godo No 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 Dura poco mi sa Facciamo allora così Ho poco tempo Ma Dai siamo come i bambini scemi Non avete visto niente Ok qua c'è il nostro bottoncino Easy direi Adesso siamo in questa qua Facciamo questa e poi continuiamo nel prossimo episodio Che ne dite? Io direi di sì Io vedo Lo vedo Lo vedo Fun fact Cactus Tresla Mi fa incedere Mi brucia come il pane Iscriviti al mio canale Grazie Carducci Ho un pipistrello Guardi così volato Pistrello Ragazzi ma come ho fatto raga Sono fortissimo Io come faccio a leggere i cartelli Ok Ok Facciamo questo E giuro ragazzi Basta Ma Ma io sto bruciando Fun fact Non funziona Non funziona Non funziona Ma io sto Non funziona Non funziona Non funziona Non funziona Gli Buon